Il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Elisabetta Casellati oggi all'Aquila nella sede della regione Abruzzo per la firma con il governatore Marco Marsilio di un importante protocollo d'intesa sulla semplificazione normativa. Tutto parte dalla necessità di rendere snelle e facili per il cittadino le imprese e le procedure. Anche la regione a favore di cittadini e imprese appunto vuole un quadro certo e trasparente di regole semplificate. Ci sarà un tavolo tecnico congiunto, il ministero ascolterà le istanze delle regioni. La Casellati dice che questo può essere un impulso importante per la ricostruzione. Il presidente Marsilio spiega che loro come regione già hanno fatto tanto. Siamo qui per agevolare la ricostruzione di questa terra che da 14 anni ancora non ha compiuto tutto il percorso della ricostruzione. La semplificazione normativa sarà uno di quegli elementi con cui contribuiranno a definire questo ITER. Quindi siamo qui proprio a lavorare per questo, a lavorare per voi, a lavorare per i cittadini, per eliminare la burocrazia che diventa uno stalker quotidiano per le persone e una sorta di freno a mano per le imprese e per tutti quelli che vogliono intraprendere o iniziare un'attività che sia essa artigianale, commerciale, in definitiva, la semplificazione è all'insegna del fare. I cittadini non chiedono altro che di poter lavorare senza troppi vincoli, senza troppa burocrazia. In questi quattro anni abbiamo abrogato più di 2000 norme, facendo leggi di semplificazione e abrogando norme ormai superate e altre centinaia sono state abrogate con leggi di riordino di settore. Noi abbiamo fatto riforme che non si facevano da decenni. Come lei ha citato quella della cultura, prima ancora c'è stata quella del testo unico sul turismo, le riforme dei consorsi di bonifica, insomma ognuno di questi testi unici ha comportato l'abrogazione di centinaia di altre norme ormai dei suede o di norme che poi era anche complicato andare a verificare se non confliggessero l'una con l'altra. Quindi cerchiamo di rendere più semplice la vita dei nostri cittadini e delle nostre aziende. La collaborazione con il Ministero servirà anche a fare un passo e un salto di qualità ulteriore.